L'album è nato per dare un sostegno concreto, politico ed economico al Comitato di Luce è un oggetto che racchiude vari elementi che ci sono cari, un po' la parte delle biografie di storie di personaggi importanti che hanno dato un contributo fondamentale alla nostra storia e in questo album ce ne sono raffigurati 30 e una figurina è una figurina che invece chi prenderà l'album potrà disegnare da solo e scrivere anche la storia di un personaggio che sceglie. Questo album non sarebbe stato possibile senza l'impegno degli illustratori che si sono prestati, posso citarne alcuni, da Gianluca Costantini che ci ha fatto la copertina, Mauro Biani, Maccox, De Sando. Questa è una delle campagne in difesa della Casa delle Donne Luce Siestra, questa è la Lucia Dora, quindi una lottatrice e noi stiamo scendendo in piazza appunto perché dobbiamo lottare per tutto questo. Il nostro paese soffre di un arretramento culturale dal punto di vista proprio del ruolo delle donne nella società. Il femminismo qui da noi è un concetto che purtroppo fa fatica a passare. Spesso le donne lo considerano un fenomeno sorpassato e non si rendono neanche conto delle discriminazioni che subiscono, quindi è importante coinvolgerle in queste manifestazioni, di far capire che la rivoluzione femminista è stata la più grande del Novecento ma non è ancora terminata e quindi noi dobbiamo sapere che se non si trasforma in voti tutto quello che stiamo vedendo in questa bella piazza, si fa solo un favore a chi invece vuole togliere i diritti alle donne. Per ogni donna sovrate e offesa siamo tutte parte desa. Sono di recente usciti gli ultimi dati Istat e Eurostat sui femminicidi in Italia. Il dato è sconvolgente. Se ne sono i dieci mesi dell'anno sono morte più di 94 donne e ancora oggi sentiamo sui giornali anche questa mattina l'ennesimo femminicidio. Il 43% delle donne in Italia lavora, il che significa che una su due non lavora. Esiste ancora un gap salariale di più del 23%. Una donna ogni 15 minuti denuncia una violenza sulle donne ed è per questo che oggi siamo in piazza. Ed è per questo che simbolicamente anche per raccontare e per parlare di queste donne che non ci sono più, che oggi alle 16.30 non una di meno lancerà un grido muto. È il grido di tutte quelle donne che più non hanno voce. Ci sederemo tutte a terra. Staremo in silenzio per 5 minuti e alla fine di questi 5 minuti ci solliveremo, esploderemo in un grido che voglia di cambiamento e che desiderio di trasformazione. in un grido di trasformazione.